musica una location del genere non si leva da tempo bellissimo il contesto dei giardini stessi ma qui siamo proprio nel cuore di Varese Piero, tu qui vieni a fare l'aperitivo con gli amici il sabato sera? ogni tanto, poco e niente senti, come lo vediamo questo rally? è molto combattuto, la classe è molto combattuta ma vedremo di difenderci vuoi partire quando vuoi? potessi giocare un jolly, su quale prova te lo giocheresti? il cuvignone il cuvignone signori, piangereme lì in coppia con Paolo Tiziani il reno Clio e il rafferente team la struttura è capitanata da Agostino Loda e Gistini non? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.